Ah, avevi da parlarmi. Cose gravi? Non ho. Meno male. Allora posso sedermi? È meglio. Mi siedo anch'io. Allora, di che si tratta? Una cosa molto semplice, caro. Meno male. Dunque, ieri sera, quando tu sei andato a dormire, io mi sono fermata qui a leggere un po'. Dopo una mezz'oretta, così, sono salita. Nel passare del corridoio del primo piano, indovina chi ho incontrato? Chi? La dama bianca. Anche tu? Com'è? No, no, niente. Continua. Un velo sul viso, una vestaglia. Camminava rapida, guardinga. M'è passata accanto, non s'è neanche accorta di me. E tu? In principio sono rimasta un po' sorpresa. E poi ho avuto la curiosità di vedere dove andava. Hai fatto male. Perché? Perché non sta bene, perché non è fine, non è distinto. Capisci? Mi dispiace quello che hai fatto, mi dispiace molto. Scusa se te lo dico, ma non è degno di te. Hai visto dove è andata? In camera tua. In camera tua.